Un fulmine cade sulla Nova Robotics, che ha creato uno straordinario robot, il numero 5. La scarica gli provoca un mutamento comportamentale, per cui il robot fugge. Crosby, l'inventore, lo insegue, come pure l'esercito. Lui si nasconde in casa di una ragazza ecologa, e, sofisticato com'è, impara tutto. Una volta gustata la gioia di vivere, non vuole essere distrutto. Quando Crosby lo ritrova, il robot, scampato anche all'esercito, va a vivere nel Montana con il suo inventore e la di lui ragazza.